Inaugurazione ufficiale lo scorso sabato per il Drive Burger King di Via Poggilupi, l'undicesimo del gruppo Lazzi Lisi, che hanno ricordato l'importanza di creare ambienti giusti sia per i giovani che per le famiglie. Per l'occasione, organizzazione del concerto di Laria, artista toscana ormai conosciuta grazie ad X Factor, che ha portato molti giovani all'interno del locale. Non è stato il mio punto d'arrivo, è stata una vetrina, ancora deve cominciare il tutto. Stiamo lavorando, quindi naturalmente grazie a loro il tutto va avanti, perché senza le persone, senza i giovani, non solo, non sarei da nessuna parte. Mi ispiro a diversi artisti, tipo Elisa anche, a Matt Corby, poi prendo un po' di cose da chiunque e cerco di fare le mie e viene fuori questo. Il futuro, tanta musica, non so niente di preciso ancora e se lo sapessi non lo potrei dire, quindi niente, tanta musica, quello sì. Terranova Bracciolini ci sta dando grandi soddisfazioni e presto penso ce ne darà ancora di più quando riusciremo ad aprire la seconda parte del locale che ospiterà tantissimi giochi e spazi per le famiglie e soprattutto per i bambini. E quindi nonostante, diciamo, la catena rappresenti una ristorazione veloce, la cosa più importante per noi è la famiglia e quindi creare spazi dove si possa stare tranquillamente. La catena di fast food, oltre a dare importanza agli spazi per interagire, cura molto anche la provenienza degli ingredienti. Comunque con del cibo di qualità, perché come ho detto anche altre volte, il cibo è tutto italiano, e in particolare la verdura è a chilometro zero, perché noi prendiamo le verdure fresche dal territorio e quindi qualità. Il concerto regalato da Burger King ha portato dunque giovani all'interno del locale, ma anche molte famiglie, rispecchiando quel progetto che vuole essere importante per tutti.